Presentiamo la giornata internazionale della guida turistica che si tiene in tutto il mondo e che cade sempre nel mese di febbraio. Non volevamo essere da meno, quindi volevamo partecipare ed essere molto ben visibili, sia per sottolineare l'importanza della nostra professione, che è veramente conquistata con la fatica, con il sudore, come tutte le professioni di questo mondo, ma soprattutto volevamo sensibilizzare l'utenza circa il fatto che sarebbe sempre meglio avvalersi di guide regolarmente abilitate, quindi di professionisti, di diffidare dai cosiddetti abusivi, da quelle guide illegali che a noi ormai impazzano da tempo un po' su tutto il nostro territorio, non soltanto piemontese, non soltanto torinese, ma anche su scala italiana. Un appuntamento per sensibilizzare verso questo settore? Esatto, anche perché la sensibilizzazione parte dalla gratuità. Le guide turistiche, come tutti i professionisti, devono essere pagate, vengono regolarmente pagate a fronte di un onorario e di tariffe di riferimento. La giornata della guida sarà una giornata gratuita, proprio per ulteriormente sensibilizzare l'utenza al fatto che delle guide turistiche regolarmente abilitate danno la loro testimonianza contro l'abusivismo, ma soprattutto a favore della loro professionalità. Quindi è un modo per dire ai turisti, se volete fare un tour guidato, avvaletevi di una persona regolarmente abilitata. Qual è il programma di questa iniziativa? Il programma si concentrerà principalmente su Torino, sui musei della fondazione civica dei musei, quindi in particolar modo su Palazzo Madama, sul Mao, il Museo d'Arte Orientali, e ci saranno anche dei tour a piedi della città per coloro che non conoscono ancora bene Torino. Quando? Sarà domenica mattina, quindi il 19 febbraio, domenica mattina, aspettiamo tutti in Piazza Castello, lato via Roma, dove ci sarà proprio il gasibo dedicato della GIA Piemonte. È l'unico modo per cercare di combattere l'abusivismo in questo ambito? No, no, ci sono modi ulteriori, decisamente anche più, direi, incisivi, e il primo modo è il controllo. Siamo all'interno della sede di Ascomf Commercio, chi meglio dei commercianti può dire quanto abusivismo ci sia, addirittura davanti ai negozi si trovano il venditore abusivo che vende merce quasi simile a quella che regolarmente viene venduta dentro ai negozi. Quindi i controlli fanno il primo punto fondamentale da cui partire nella lotta contro l'abusivismo. Queste sono iniziative motu proprio che le guide fanno, proprio per anche sensibilizzare la Polizia Municipale e tutti coloro che sono o dovrebbero essere preposti alla sicurezza.